Giorno 671. Le notizie di oggi vengono principalmente da sud. Qui le forze ucraine hanno condotto un attacco missilistico contro la flotta del Mar Nero. L'obiettivo principale dell'attacco è stata la nave d'assalto anfibio Novo Cherkask di base a Feodosia. Il punto in cui si trovava la nave è estremamente importante, poiché la base principale della flotta del Mar Nero era Sebastopoli, ma dopo che gli ucraine hanno distrutto diverse navi e il quartier generale, i russi hanno deciso di spostare il tutto a Feodosia, credendo fosse più sicuro. Ma sfortunatamente per loro non lo era. A differenza della maggior parte degli attacchi precedenti, questo non ha interessato l'interezza della penisola ed era composto da un misto di droni e missili. I droni sono stati lanciati da Odessa per distrarre ed esaurire la contraria russa e immediatamente dopo gli ucraini hanno lanciato quattro Stone Shadow da due Su-24M. Una tattica così semplice e diretta significa che gli ucraini hanno raccolto abbastanza informazioni sulle difese aeree russe durante gli attacchi dronici precedenti ed erano quindi certi che ci fosse un corridoio abbastanza sicuro per i missili. Cosa rivelatasi corretta. La nave stava portando centinaia di razzi per i sistemi da lancio multipli, migliaia di munizioni per l'artiglieria e droni Shahed. La detonazione è stata così violenta che i frammenti della nave sono stati ritrovati nel centro città. Gli ucraini avevano già provato a distruggere questa nave l'anno scorso a Berdyansk, ma aveva subito solo danni lievi. Ieri gli ucraini hanno quindi finito quello che avevano iniziato, cosa confermata dalle immagini del porto che indicano che la nave sia affondata. In più, fonti russe riportano l'affondamento della nave d'addestramento UTC-150 e che la nave Capitan Guryev, ormeggiata al vicino, abbia subito danni di entità non nota. Immagini satellitari confermano che due navi sono parzialmente o completamente scomparse sott'acqua. Il ministero della difesa russo ha dichiarato che la nave aveva solo subito danni e a questo punto possiamo dire che sono danni irreversibili. Hanno inoltre riportato che tutti i mezzi usati per lanciare i missili sono stati eliminati dalla contraerea. Alcune fonti hanno insistito nel chiedere spiegazioni sul perché le difese aeree non abbiano prioritizzato i missili. Alcune fonti confermano che le difese aeree nella regione di Arson avessero effettivamente lanciato missili contro i jet ucraini. Poco dopo il lancio, i bersagli sono spariti dai radar russi, suggerendo che l'intercettazione avesse avuto successo. Ma un'ora più tardi, gli analisti russi riportavano che due SU-24 fossero decollati dall'aeroporto di Kanatovo. Gli aerei quindi non erano stati intercettati, ma erano semplicemente atterrati per fare rifornimento. Inoltre l'abbattimento dei jet russi di qualche giorno fa ha facilitato l'attacco missilistico di ieri. Secondo alcuni analisti russi, infatti, gli ucraini non hanno solamente evitato estensivi bombardamenti, ma hanno anche minato le difese aeree russe. In normali circostanze, operare così vicino alla linea del fronte sarebbe pericoloso per gli ucraini, in quanto i jet russi potrebbero facilmente intercettarli. Ma grazie alla paura instillata dai Patriot, gli ucraini hanno avuto una finestra d'opportunità che hanno immediatamente sfruttato. Il Ministero della Difesa britannico ha rilasciato un commento sulla situazione e fatto notare che negli ultimi quattro mesi le forze ucraine sono riuscite a distruggere il 20% della flotta russa del Mar Nero, un risultato impressionante per una nazione senza la marina. Gli analisti russi si sono rivelati allarmati del fatto che gli ucraini stiano bersagliando le navi più grandi della flotta russa, che non solo sono estremamente difficili da sostituire, ma servono anche come mezzo di trasporto alternativo in caso venga distrutto il ponte di Kerch. Se tutte le navi di grossa stazza venissero distrutte e il ponte reso inoperativo, la logistica russa a sud collasserebbe. Questo potrebbe essere uno degli obiettivi ucraini per la campagna estiva del 2024, ma nel frattempo i russi hanno cominciato a spostare le loro navi da Feodosia. Sembra che al momento non ci sia un posto sicuro per l'esercito russo in Crimea e dopo aver perso 5 jet in 3 giorni non possono neanche migliorare le proprie difese aeree senza rischiare ulteriori perdite. Han quindi deciso di ritirare momentaneamente aviazione e flotta dal sud. E al momento in corso un sostanziale sconto sulla collezione delle bandiere doppie, un acquisto ideale per mostrare solidarietà alla situazione ucraina e supportare il nostro lavoro. Se siete interessati il link si trova in descrizione. Come al solito, grazie per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo video.